ebbene allora oggi inizieremo un percorso di tre incontri e capirete anche perché sono tre incontri in realtà io questo lavoro l'ho presentato lo presento in realtà sempre prima ai gruppi latinoamericani era un gruppo era un unico incontro e dopo sono nati altri due quindi per necessità e alla fine quindi alla all'italia lo sto riproponendo già diciamo con la forma dei tre incontri così non non abbiamo problemi e il titolo della conversazione che guida questi tre incontri è la biografia umana come manifestazione dell'io nel tempo e nello spazio e già vi dico che guarda guarderemo molti punti di vista di questa biografia umana chissà sorriseranno molte domande che sempre è propizio e sommamente positivo e probabilmente non risponderemo a tutte le domande però è importante che sorgano e per onestà si tratterà chiaramente la possibilità dei settenni però io posso trattare fin dove sono arrivata e quindi ai miei 42 anni di più non posso fare ci sono tantissimi elementi bibliografici che io consiglio per poter lavorare la biografia che sicuramente conoscerete in italiano ci sono diversi lavori dal lavoro di robert gorter alla woodrun con un nome abbastanza difficile però posso fornirvi tramite l'email chiaramente una bibliografia e per quello che riguarda le le conoscenze diciamo che ci da rudolf steiner ci sono diverse conferenze sempre io raccomando come base fondamentale i libri in particolare scienza occulta e teologia questo giusto per base no per fare questo lavoro per parlarvi insieme a voi di questo lavoro voi a silenzio silenzio i microfoni semplicemente per non avere disturbi mi sono ispirata a un verso che rudolf steiner regala nel natale della del 20 del 1920 siamo al 24 dicembre 1920 e che è il verso che accompagna il gruppo di studio di scienza occulta che è nato a partire dal 2020 al 4 febbraio 2021 con il gruppo latino americano e dopo tanto tempo non tanto però è ma noi ci incontriamo una volta la settimana di domenica con scienza occulta e in realtà è stata una sorpresa vedere come questo verso in qualche modo può guidare il nostro cammino nella biografia umana quindi adesso condivido qua vedete chiaramente tre lingue l'originale in tedesco e al centro spagnolo noi leggeremo quello che sta all'estrema sinistra e dice così come un ponte è l'essere umano tra il passato e l'essere del futuro il presente è l'istante istante come ponte spirito diventato anima nel guscio materiale questo è del passato anima che diventa spirito in fonti germinali questo è sulla via del futuro cogli il futuro attraverso il passato abbi speranza per ciò che diviene attraverso ciò che è diventato cogli così l'esistenza nel divenire cogli così ciò che diventa nell'esistente rudolf steiner natale 24 dicembre 1920 chiaro che la traduzione in italiano è un po farlocca chiedo scusa perché purtroppo non ho potuto fare di meglio e avevo trovato certe traduzioni che però non sono in realtà molto precise nella lingua spagnola si sente ancora di più la forza di questo verso e allora come un ponte l'essere umano tra quello che è il passato e quello che è il futuro quando parliamo della biografia umana normalmente pensiamo un lasso di tempo molto limitato molto limitato perché intanto prevede una visione che va dalla nascita alla morte e vedremo che questo non è non è sufficiente per poter guardare la biografia umana e poi guardiamo solamente l'esperienza di urna quello che succede quando io sono sveglia dalla mattina fino alla sera si spera invece già una delle riflessioni che dobbiamo incominciare a fare è chissà considerare qualcosa che normalmente non consideriamo lo spazio che c'è e il tempo che c'è tra una morte e una nuova nascita o almeno considerare la possibilità di qualcosa che c'è prima della nascita e dopo la morte normalmente noi abbiamo una visione sicuramente avrete visto questo tipo di schema a me non mi piacciono molto gli schemi però a volte sono importanti da fare giusto per ordinare le idee l'importante poi sempre è cambiarli elaborarli cambiarli sicuramente avrete visto adesso devo scegliere un colore questo che è un po la rappresentazione della biografia se noi la guardiamo da un punto di vista prettamente fisico esteriore quindi c'è un momento in cui nasciamo c'è una crescita spropositata non so se si vede si vede fanno segno cambiamo colore facciamolo giallo vediamo c'è una crescita si vede meglio si molto meglio poi c'è un momento che si può anche chiamare di plateau di tranquillità di apparente equilibrio e poi sempre guardando l'esterno il fisico una decadenza fino ad arrivare a un altro punto questo è un arco che può riassumere abbastanza chiaramente questo passaggio questo questa visione no un processo di maturità di invecchiamento turità e invecchiamento certo noi dal punto di vista anche solo fisico possiamo già dire che in realtà in questo processo di maturità e invecchiamento c'è qualcosa che va ben oltre c'è si può dire un processo anche di spiritualizzazione del corpo paroloni facciamo i passettini alla volta in realtà potremmo considerare che è già è uno dei pensieri che in qualche modo abbiamo abbiamo detto che prima della nascita possiamo immaginare che ci sia qualcos'altro così come dopo la morte allora in un certo senso questo arco si deve capovolgere si capovolge in modo che qua c'è qualcosa prima la nascita entrare nella terra entrare pienamente nella terra vedremo e poi una sorta di preparazione ad andare oltre questo potrebbe essere un'altra rappresentazione possiamo considerare che tra la nascita e la morte rappresentate in qua come stelline in realtà c'è un passaggio di preparazione per nascere e un passaggio di preparazione per morire in fin dei conti chi mastica un po l'antroposofia sa che noi amiamo riferirci quando entriamo con questo vocabolario con questa serie di pensieri totalmente distinti e diversi dal pensiero materialista comune usiamo questi termini come per esempio in castigliano mi sta venendo la parola in spagnolo porta passaggio no umbral sarebbe in spagnolo questo passaggio questo corridoio tra una cosa e l'altra il fatto di considerare la possibilità di un passaggio preparatorio che sia in questi due momenti della vita ci dà la possibilità di guardare all'essere umano in una forma distinta per esempio ci fa considerare questo elemento della individualità che passa da vita in vita questo elemento della individualità è un elemento spirituale e nel testo che vi ho letto nel verso dice spirito fattosi alma anima nella involtura nel guscio materiale questa parola di involgersi no in boll scusate l'italiano sette anni in perù ho dimenticato a parlare in italiano nel frattempo però mi me lo concedete questo involvere che non è la parola corretta ma che qualcuno mi aiuta mi fa mi da una mano in questo è avvolge avvolgersi di questo aspetto materiale spirito che si fa anima allora alcuni di voi sicuramente sono maestri alcuni di voi hanno elaborato le idee che ci sono nella pedagogia Waldorf e sicuramente alcuni di voi che siano maestri o meno chissà hanno potuto leggere un ciclo di conferenze di Rudolf Steiner molto prezioso che è l'antropologia sarebbe il testo della G.A. 295-93 adesso non mi ricordo esattamente che si usa normalmente come testo chiave basico per la pedagogia Waldorf ed è composto in tre tomi in realtà ognuno di questi ha una G.A. un'opera omnia particolare uno si occupa della parte più teorica dando tutto tutto il conoscimento concettuale un secondo tomo si occupa della didattica e un terzo tomo mi avviso il più interessante si occupa del tirocinio dell'aspetto pratico del mettere in pratica le conoscenze se avete più o meno chiaro questo ciclo di conferenze ma anche se non le avete non importa lo andiamo un pochino a guardare ci sono queste prime due o tre conferenze iniziali in particolare do al riferimento bibliografico del 21 del 21 agosto e del 22 agosto 1919 e dove Rudolf Steiner parla chiaramente del fatto che a preparare questo passaggio verso la nascita è l'identità spirituale animica del bambino che poi si va incarnando quindi spirito e anima dovremmo immaginare questo elemento spirituale questo elemento individuale del bambino che già si circonda già prende in sé l'elemento dell'anima è una triada una triada che si veste di spirito si potrebbe vedere anche in questo modo vediamo non so dove ho messo il gelato vediamo una triada spirituale involta circondata da un elemento animico facciamo così per adesso per dare un triangolo ma so meno perché è un'interna triada a questa domanda dice che cos'è lo spirito lui risponde è ciò che è totalmente occulto nel fisico come Atma Buddhi Imanas noi sappiamo che questi sono i termini di un una germinazione diciamo spirituale di elementi costitutivi spirituali dell'essere umano che sono il risultato del lavoro dell'io negli involucri corporali però questo è quello che sta scendendo e questa triada è involta dell'aspetto animico del bambino già preparato anche lì c'è una triada in realtà questa triada è compenetrata di anima Rudolf Steiner in queste due conferenze impiega molto molti pensieri sul fatto che il punto focale di tutta l'incarnazione del processo incarnatorio del bambino è questa armonia tra questa triada di spirito compenetrata di anima e una triada corporale e il corpo questi due elementi devono trovare armonia questo trovare armonia è tutto il processo incarnatorio che dura 21 anni più o meno dal momento della nascita in realtà i vincoli si creano prima spirito fatto si anima nell'involucro materiale questo è un po' il verso che accompagna questa prima parte della biografia umana questo spirito fatto si anima deve incontrare un involucro materiale che ha a che fare con le leggi dell'ereditarietà poi vedremo anche l'altra parte nel terzo incontro però adesso dobbiamo partire da qua e vediamo un po' che cosa accade nella seconda conferenza quella della 22 agosto sì ce l'ho scritta qui nella seconda conferenza dice in particolare che nel mondo spirituale quindi prima di questa nascita è riflesso nella nostra corporeità nell'attività rappresentativa e io penso che già da qui possiamo capire che iniziare a conoscere l'antroposofia da questo punto di vista vuol dire più o meno avere una confusione totale in testa penso che questo è uno dei testi che bisogna prendere dopo aver almeno masticato per abbastanza tempo i testi fondamentali però molto spesso chissà nella formazione Waldorf è uno dei testi primi che si danno e ricordo sempre i miei amici che hanno seguito vari incontri lo sanno ricordo sempre che questo ciclo di conferenze del 1919 viene dato ai maestri ai futuri maestri Waldorf che sono tutte persone che non solo conoscono l'antroposofia da più di vent'anni ma sono anche persone che fanno parte della classe esoterica e quindi persone che praticano quello che è il cammino di discipolato occulto e quindi la forma in cui parla Rudolf Steiner è una forma orientata per queste persone questo è sempre importante ricordarlo questa frase la ripeto tutta l'attività esercitata nel mondo spirituale prima della nascita anzi prima del concepimento dice è riflesso nella nostra corporeità nell'attività rappresentativa qua si potrebbe veramente fermarsi a riflettere per molto tempo su questa singola frase su questa su questo pensiero che contiene un mondo la natura per esempio del corpo che è una natura di specchio riflettente la natura del corpo che ci permette quindi di poter avere una coscienza di sé non è una cosa da poco almeno qua sulla terra e questo riflesso nella nostra corporeità è l'attività rappresentativa qua c'è tutto un elemento importante nelle conferenze a seguire sulla memoria e sulla volontà sulla rappresentazione e sulla volontà chissà abbiamo bisogno giusto di fare una piccola considerazione su che cos'è una rappresentazione una rappresentazione Rudolf Steiner dice che è il primo gradino della memoria l'attività rappresentativa la rappresentazione in particolare è qualcosa che noi impariamo a un certo punto come anche prime associazioni di pensiero la rappresentazione l'esempio più chiaro che mi viene sempre che porto è fare questo piccolo esercizio che se lo volete fare insieme a me avete da scrivere a disegnare bene allora io adesso caratterizzerò una cosa e voi mi disegnerete senza dirmi niente poi per favore mi fate fate vedere al video in maniera che tutti noi possiamo vedere allora quello che dovete disegnare è una figura chiusa con tre angoli una figura chiusa con tre angoli può essere molto fantasioso però dubito sempre hai qualcuno che fa qualcosa di super fantasioso però vediamo aspetta Giovanna vicino all'ombra ecco sì lo vedo perfetto Stefania lo vedo grazie lo vedo perfetto e voi anche voi no state vedendo fantastico c'è sempre qualcuno che crea è bellissimo però sostanzialmente vediamo vediamo aspetta sì perfetto vediamo dall'altra parte se c'è qualcuno che si attreve perfetto grazie sì molte grazie perfetto sì io direi che tutti abbiamo fatto più o meno creativamente perché questa è la cosa bella dell'individualità un triangolo più o meno un triangolo una forma chiusa con tre angoli un tre lati un guai allora se io dovesse chiedere di chi è il triangolo cosa mi rispondereste qualcuno dice mio è del foglio è del foglio è interessante come risposta però no di chi è la idea del triangolo chi è chi è il proprietario del pensiero triangolo visto che l'avete disegnato tutti più o meno è un pensiero collettivo lo so vuoi dire che è di tutti universale è universale interessante no questa cosa perché noi siamo in un'epoca tanto sviluppata bellissima la nostra epoca molto faticosa però è un'epoca in cui abbiamo questo concetto ad esempio della proprietà intellettuale a me fa morire da ridere questa parola proprietà intellettuale l'ho pensato io è un mio pensiero è molto interessante perché in realtà questo piccolo esercizio ci fa capire la differenza tra quello che è il pensiero e la rappresentazione il pensiero è un elemento assolutamente esterno da noi è un elemento universale e non appartiene se non a se stesso una cosa metafisica ma in realtà non lo è così tanto mentre invece quello che ci appartiene quello che è nostro per esempio è il particolare triangolo che ognuno di voi ha fatto è la vostra rappresentazione del triangolo e questo è vostro in un certo senso si può dire che la rappresentazione è un pensiero individualizzato questa è una frase di Rudolfstein è un pensiero individualizzato cioè qualcosa che io con la mia attività dell'anima pensante che è mia no? che ha le caratteristiche che io in qualche modo ho cercato di ottenere vado tocco il pensiero e da questa esercitata da questa attività esercitata ottengo la mia immagine di questo pensiero cioè la rappresentazione allora adesso riascoltiamo tutta l'attività esercitata nel mondo spirituale prima della nascita anzi prima della concezione è il riflesso nella nostra corporeità dell'attività rappresentativa sicuramente conoscete il mito di Platone della origa del viaggio quando quando si studia questo normalmente è legato al fatto alla domanda come si educa l'essere umano come si educa l'essere umano per Platone la risposta è l'essere umano si educa e apprende attraverso il ricordo ricordo di che e lui spiega questo mito di fare questo giro in un circo con una origa e facendo questo giro nel mondo delle idee potrebbe dire al mondo spirituale più cose vede più cose può ricordare ora il fatto che lui faccia questo giro e possa vedere determinate cose dipende molto dalle sue capacità dai suoi talenti da quello che comunque si porta questo mito ci apre sicuramente la strada a capire che cosa succede in questi passaggi prima e dopo la nascita e la morte in un certo senso abbiamo questa immagine del ricordo attraverso l'attività rappresentativa spirito fattosi alma nel nel guscio materiale è quello che viene dal passato allora dobbiamo guardare un po' questo entrare nella porta della nascita spirito abbiamo detto l'individualità del bambino è vestita è compenetrata dall'anima e comincia a prendere un contatto con qualcosa che viene dalla corrente ereditaria poi vedremo come e quando nel terzo nel terzo arriviamo a capire come e quando però abbiamo questa tensione questa attrazione in un certo senso di questa componente animico spirituale con la componente fisico vitale animica possiamo dire già che tutto il periodo della gravidanza è un periodo in cui si prende questo contatto questo vincolo si crea sempre più fermamente sicuramente noi abbiamo e questo vi posso assicurare in tutte le culture non solamente la nostra italiana ma io so bene che anche in Italia c'è questa cultura del fatto di mantenere il segreto fino al terzo mese no? non dire niente non si sa mai è molto interessante questa questo questo piccolo elemento culturale che in realtà unisce moltissime moltissime culture del silenzio fino al terzo mese più o meno in realtà fino al terzo mese abbiamo questo creare il vincolo con questo aspetto diciamo corporale questo vincolo che deve essere in qualche modo creato e consolidato questo toccarsi questo iniziare a toccare dell'elemento individuale quello che viene fornito dall'ereditarietà ciò che viene fornito dall'ereditarietà inizia Rudolf Steiner dice a partire dalla terza settimana del concepimento terza fine della terza settimana si potrebbe dire inizio della quarta chi conosce un po' con l'embriologia sa che questo è il momento specifico dove si ha la possibilità della potenzialità della forma umana in quattro settimane non si vede ancora la forma umana come noi la conosciamo però si ha questa potenzialità tutto è predisposto questo sarebbe il momento in cui inizia un vero contatto e questo contatto questo vincolo si crea fino a partire fino a essere consolidato dal quarto mese in avanti e che cos'è questo contatto di che cosa di che cosa si sta occupando in questo momento l'individualità umana voi sapete che questo questo bambino in realtà o meglio quello che succede nel ventre materno è prima di tutto una preparazione di strutture e ci sono delle strutture che noi chiamiamo extraembrionali le tre grandi madri queste strutture la placenta l'amneus il corion l'antoide giusto per dire i nomi per capire di che cosa si sta parlando sono strutture esterne apparentemente dall'embrione sono strutture necessarie per la sua formazione e sopravvivenza chi agisce attraverso queste strutture è proprio l'individualità il grande fratello in questo caso ci sono culture antiche dove si fa nascere il bambino e dopodiché nasce in un certo senso anche la placenta e questi due non vengono in realtà staccati immediatamente normalmente si fa riferimento a questa doppia nascita come la nascita del fratello del bambino in questo caso si sta parlando di queste strutture niente di più e a parte il fatto che appunto adesso è diventato in auge con almeno ho sentito che sono già una quindicina d'anni che questo che questo metodo è ritornato con diciamo con più frequenza viene scelto anche da molte persone però a parte questo quello di cui voglio parlare voglio invece parlare del fatto che nel grengo materno l'azione dell'individualità direttamente sulla materia agisce grazie a queste strutture vediamo che l'azione di questa individualità è veicolato da quelle che noi conosciamo come forze formatrici vitali quelle che poi poco a poco formeranno il corpo vitale del bambino queste forze agiscono rispetto all'organismo fisico dall'esterno e la loro azione è modellatrice la smatrice quello che fanno è creare strutture creano la struttura embrionale all'interno all'interno dell'embrione si creano i mondi i sistemi planetari degli organi tutto a livello di forma e struttura nel momento in cui si passa la porta della nascita con questo nascere del corpo fisico del bambino con questa apparente separazione dalla madre solamente apparente per i primi tre anni queste forze formatrici plasmatrici scultorie vengono in qualche modo veicolate direttamente dentro l'organismo fisico del bambino possiamo immaginare questa concentrazione dentro quello che è il punto fondamentale che si presenta nella struttura fisica del bambino che è la testa dal momento in cui nasce il bambino fisico fisicamente queste forze formatrici agiscono dalla testa fino ai piedi sono strutture no perdona sono forze formatrici scultore che a questo punto con la nascita fisica cominciano non più a formare strutture ma ad avere un'azione plasmante plasmatrice sulla funzionalità la struttura c'è adesso deve educarsi apprendere a funzionare per tutta la vita infatti noi come dico sempre è un po' burdo come si dice un po' terra terra però noi non è che nasciamo e mangiamo bistecche noi dobbiamo assumere prima il latte della madre quindi dobbiamo come dire passare poco a poco a un'educazione del sistema digerente del sistema respiratorio del sistema circolatorio eccetera 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 questa educazione alla funzionalità è ancora uno come dire un lavoro delle forze formatrici che agiscono dalla testa fino ai piedi dall'alto al basso lì sta operando l'individualità dell'uomo in questo momento quindi vediamo che questi primi anni del bambino sono anni in cui è tutto dedito a se stesso è tutto impegnato a se stesso è tutto chiuso in se stesso in realtà da questo punto di vista da un altro punto di vista il bambino è così entra nel mondo piena di fiducia abbandonato totalmente al karma però dall'altro punto di vista è totalmente ineducabile in un certo senso una parola terribile da dire ma prova a dire a un bambino di un anno e mezzo no non si fa questo il risultato è zero praticamente quindi vediamo in un certo modo che in questi primi sette anni si potrebbe dire questi primi sette anni della biografia umana veramente viviamo nella necessità un abbandono verso il karma chi sta intorno a noi sono persone che sono la madre il padre poi piano piano si allargano questa possibilità della della famiglia ma nei primi sette anni è la famiglia l'intorno familiare che può essere più o meno un nucleo più o meno ristretto o allargato a seconda della cultura e che ha a che vedere con questa necessità karmica il bambino vediamo che fa dei cambiamenti incredibili in questi primi sette anni che non stiamo a guardare adesso nel dettaglio perché per questo ci vorrebbe molto tempo per discutere però possiamo dire che quelli che sono dei momenti fondamentali almeno in questi primi sette anni sono i primi tre in questi primi tre anni vediamo che il bambino può conquistare facoltà umane direi prettamente umane può conquistare non sono predisposte e le tre facoltà umane principali che sicuramente tutti voi conoscete sono ergersi in piedi nel primo anno di vita poi entro i primi due anni la conquista della parlare e e nei due anni e mezzo tre anni la conquista del pensare attraverso queste prime associazioni di pensiero e rappresentazioni dopo di che se seguiamo un po' il bambino vediamo che tutto quello che lui manifesta è una forza istintiva fondamentale che gli permette di apprendere che è l'imitazione questa imitazione è una forza istintiva che non ha niente di terrestre infatti noi la perdiamo a un certo punto diciamo questa forza istintiva rimane nel bambino e va poco a poco scemando intorno ai nove anni quello che noi chiamiamo il passo del rubicone lo vedremo più avanti poco tempo è qualcosa che ci portiamo in realtà da prima del nascimento prima della nascita e che cos'è questa forza dell'imitazione intanto è un istinto quindi è pura volontà è un istinto naturale fortissimo che spinge il bambino a rifare diciamo in maniera semplice il gesto fisico che vede rappresentato nel suo intorno sembrano paroloni però bisogna sempre andare nella vita pratica avete presente quando il bambino ha mangiato un bambino sotto l'anno 5-6 mesi per esempio ha mangiato è pulito è stato cambiato sta bene non ha nessun problema sta dormendo nella cuna nella culla tu sei lì vicino a un certo punto con tutta l'attenzione di questo mondo qualcuno fa capolino nella stanza chiude la porta con molta attenzione cammina in punta di piedi saluta e improvvisamente il bambino inizia a piangere però perché? però perché? che sta succedendo? ha mangiato è pulito adesso guarda era tutto tranquillo si è entrato tutto hai fatto tutto piano però poi scopriamo che parlando con questa persona aveva una serie di preoccupazioni dovute al traffico il capo che gli aveva orlato contro era successo qualcosa aveva un'attenzione incredibile però chiaramente sapendo che c'era un bambino piccolo è entrato nella stanza facendo attenzione e che i bambini soprattutto nel primo settennio in realtà non riescono a comprendere atteggiamenti di maschere come il sono tranquilla sto bene va tutto bene loro ci penetrano come cristalli trasparenti quindi che noi facciamo buon viso a cattivo gioco non gli importa proprio niente al bambino il bambino ci compenetra e se io ho un'inquietudine lui la manifesta immediatamente la manifesta come uno specchio è la capacità imitativa è la capacità imitativa che non ha niente a che vedere con il fatto che io possa scegliere quella emulazione io posso scegliere qualcosa da imitare in realtà sto emulando il bambino imita e questo ancora non ha niente a che vedere con l'elemento della coscienza altro esempio sono al telefono e sto parlando con un'amica e sto dicendo guarda un disastro non trovo lavoro abbiamo una situazione economica che lascia stare non vedo soluzioni vedo soluzioni sono molto molto preoccupata molto preoccupata perché veramente siamo messi veramente male e mentre stiamo al telefono mi chiede vabbè ma come sta Maria ah Maria no Maria sta bene sì sì adesso Maria sta tranquilla in realtà sai che sono due o tre giorni che Maria non va al bagno è un po' di stipsy che sta facendo Maria? Maria la bambina di sotto di un anno e mezzo sta imitando la preoccupazione attraverso il gesto fisico il gesto fisico della preoccupazione è questo mi chiudo mi stringo mi contraggo uno è preoccupato quando sta così quando è così non è preoccupato il bambino imita e l'imitazione è ricreare fisicamente quello che lui percepisce nel suo intorno poi c'è anche l'aspetto animico è questa l'imitazione poi ci sono anche i traumi eccetera eccetera ma adesso ci stiamo occupando di questa forza istintiva allora questo cosa significa significa che il bambino in questi primi sette anni grazie al potere dell'imitazione ha la possibilità di plasmare e predisporre il suo organismo fisico vitale a determinati orientazioni se l'ambiente intorno a lui è sereno tranquillo gioioso allora il bambino diciamo conformerà la sua struttura organico fisica vitale a questo tipo di stato d'animo però se questo è circondato costantemente da preoccupazione o chiss'altro stato d'animo allora la sua predisposizione fisica sarà quell'altra perché vi sto parlando di questo che senso ha con la biografia per comprendere che in questo primo momento davvero in questo primo momento biografico davvero non c'è tanto da poter elaborare questi primi sette anni noi arriviamo e ci abbandoniamo a quello che in qualche modo abbiamo preparato a quello che abbiamo preparato come copie di genitori situazione ereditaria eccetera eccetera questo sta sotto la legge della necessità però dall'altra parte ci sono gli adulti e gli adulti sono in un'altra fase biografica rispetto al bambino quindi invece gli adulti possono elaborare conoscere queste cose e anche cercare di elaborare su se stessi quindi con una autoeducazione in realtà si può fare moltissimo vedremo questo più avanti adesso intanto volevo preparare questa base il bambino procede nella 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 vita e arriva a un passo importantissimo che noi chiamiamo la crisi del rubicone e questa crisi del rubicone è una chiusura con la porta della nascita cosa vuol dire che in realtà questo lungo passaggio di preparazione della nascita viene accompagnato anche oltre la nascita fisica più o meno verso i 9-10 anni dove c'è qualcosa noi vediamo che cambia nel bambino appaiono delle paure molto spesso la paura che la mamma e il papà possono morire quindi chi si occuperà di me la paura del buio altre paure e queste paure sono date dal fatto che il bambino sta facendo un'esperienza molto particolare che è quella della solitudine sta vivendo l'esperienza animica del sentimento della solitudine cioè del sentimento dell'io diciamo che se voi vi ricordate abbiamo detto che prima della nascita l'individualità lavora da fuori poi grazie a queste forze formatici può lavorare a partire dalla testa verso il basso ma questa individualità poco a poco deve contrarsi questo è il processo poi incarnativo abbiamo detto e nel nono decimo anno può essere anche prima in realtà in questo momento particolare c'è un secondo contatto fondamentale con questa individualità ed è proprio il sentimento dell'io che sorge questa chiusura un po' più chiuso diciamo in sé il bambino ancora non può razionalizzare ancora non può capire che cosa gli sta succedendo ma vive in questo sentimento e qua si fanno molto importanti in realtà da questo momento in poi si fanno molto importanti le persone che cominciano a stare intorno al bambino e che non solo hanno relazioni sanguine in fin dei conti il bambino già è a scuola si creano delle prime amicizie si creano delle prime relazioni e poco a poco queste relazioni crescono e aumentano fino a che addirittura quando il bambino ormai sarà un giovane lì si aprirà al mondo in un certo senso qua comincia a entrare in gioco questo aspetto non solo della necessità ma anche della possibilità di scegliere si potrebbe dire che in questo periodo nel frattempo in questo processo incarnatorio non solamente nasce un corpo fisico ma nascono anche gli altri componenti corporali possiamo parlare della nascita del corpo vitale con questa apparizione dello cambio dei denti con questi denti permanenti che arrivano e che cambiano totalmente sostanza che sono la sostanza più dura del corpo fisico però anche questo elemento del rubicone è un elemento che apre come dire lo sguardo a questa possibilità che il bambino comincia a chiudersi dal mondo spirituale e aprirsi al mondo fisico sempre di più vedremo poi anzi lo vediamo già che c'è un'altra nascita è una nascita anche qui sono tutti processi quindi non è che cadono esattamente all'età però possiamo dire che intorno ai 14 anni questo processo è compiuto ed è il processo della maturità sessuale il fatto che il menarca o la polluzione arrivi prima dei 14 anni non c'entra niente è una processualità quindi nel tempo e ognuno ha il suo ritmo i 14 anni comunque segnano questo momento in cui questo diciamo questo processo è nell'apice con la maturità sessuale abbiamo un altro cambio fondamentale il bambino che già non è più un bambino ma è un giovane o la giovane e si incarnano di più si chiudono ancora di più dentro l'involtura materiale e si sente dalla voce perché queste voci celestiali dei bambini che difficilmente riesce a caratterizzare un bambino da una bambina cominciano a farsi invece voci maschile e femminile diventano più terrestri possiamo dire che qui abbiamo una componente che nasce ancora che è la componente da un lato corporale del corpo animico finalmente si matura e finalmente appare qualcosa che comincia a prendere forma deve cominciare a plasmarsi che è l'elemento animico anche già ai 14 anni comincia ad apparire chiaramente questa anima sensibile anima sensiente anima che sente attraverso i sensi la composizione l'abbiamo già visto molte volte io lo ripeto perché non si crei confusione il corpo astrale è un portale un gianobe fronte che è come dire un anello che congiunge quello che è corporale da quello che è squisitamente animico il corpo astrale è la congiunzione di due elementi lo dice chiaramente Rudolf Steiner è la congiunzione del corpo animico che sono forze vitali trasformate metamorfosate e che possono accogliere come una coppa l'elemento animico proprio che è l'anima sensiente questa congiunzione è il corpo astrale quindi quando parliamo di corpo astrale possiamo già intendere un elemento dell'anima e questa distinzione ci fa anche capire dove arriva l'ereditarietà arriva fino al corpo animico vediamo quindi entriamo in questo nuovo settennio che va dai 14 ai 21 anni dove hai dove c'è questa necessità di plasmare educare proprio i processi animici se noi ci ricordiamo perché finché parliamo di sette anni chissà non abbiamo gran memoria però sfido chiunque a ricordare la preadolescenza e l'adolescenza tutti ce lo ricordiamo più o meno un po' sognante però ce lo ricordiamo e ci ricordiamo che le sensazioni animiche provate di piacere e dispiacere e i sentimenti provati di odio totale o di amore incondizionato erano senza come dire senza come si chiamano senza ah le rienda come si dice quello che tengono i cavalli redini erano senza redini totalmente lasciate libere in questa esperimentazione totale del sentire la migliore amica il migliore amico il tradimento il primo amore questa conquista poco a poco dell'indipendenza vediamo che qua il rapporto necessità e in libera scelta comincia sempre più ad aprirsi questa carellata della prima parte della vita umana e quindi una preparazione di quello che è tutto lo sviluppo corporale nel senso più ampio del termine diciamo che è come dire una necessità perché sì o sì noi cresciamo sì o sì noi formiamo questi elementi corporali e diciamo sono paletti che in qualche modo hanno una coerenza con quello che poi sarà in avvenire il resto della nostra vita voglio sapere se ci sono delle domande se avete io Consu ciao Monica ciao allora il corpo unito allora il corpo astrale è praticamente un'aggiunzione tra il corpo animico quella parte lì me la puoi ripetere di che cosa è costituito il corpo astrale che me lo perdo sempre questo il corpo astrale è costituito da due elementi uno corporale che si chiama corpo animico o nell'antroposofino e l'altro è l'anima senziente che è un elemento dell'anima ok è importante distinguerli questi perché si può fare un'investigazione lunghissima su questo però possiamo anche vedere degli esempi chiari nella nella sviluppo del bambino noi vediamo non solamente queste forze plasmatrici che sono forze vitali che dalla testa fino ai piedi lavorano abbiamo detto nei primi sette anni lavorano nella funzionalità in realtà non è nei primi sette anni lavorano fino ai ventun anni nella funzionalità perché noi vediamo che dalla medicina la medicina grandiosamente ci dice che lo sviluppo dei polmoni dopo la nascita continua fino agli otto nove anni lo sviluppo dei polmoni lo sviluppo dell'intero sistema nervoso in tutte le sue caratteristiche chiaro il sistema nervoso si forma in questi primi tre anni di vita ma tutte le reti di interconnessione continuano fino ai ventun anni in realtà hanno scoperto anche dopo però questo ti fa capire proprio la funzionalità di queste forze vitali di come continuano costantemente a lavorare sull'aspetto fisico sull'organizzazione fisico vitale in maniera da poter affrontare un'intera vita sulla terra è grandiosa questa immagine il nostro cuore non smette mai di battere quando smette è un problema vuol dire che siamo arrivati a un punto poi vediamo che cosa succede però sono cose che chissà non pensiamo abbastanza e non pensiamo con abbastanza devozione a volte quindi a volte bisogna rimanere come meravigliati la meraviglia è una chiave fantastica per poter entrare in questi mondi e allora queste forze formatrici vitali che hanno proprio la caratteristica scultoria plasmatrice no è meravigliosa questa parola ti dà proprio questa parola ti dà l'idea di quello che sta succedendo in realtà non si esauriscono nell'essere umano nell'organizzazione fisica nei primi sette anni di vita vediamo che queste forze che sono prima totalmente dentro localizzate in quella che è la testa umana che è la sede principale del nostro sistema neurosensoriale è chiaro che i neuro cioè i nervi sono ovunque e anche i sensi sono ovunque nel nostro corpo però la sede principale se la vogliamo cercare è proprio la testa la maggior parte degli organi di senso che hanno un'organizzazione fisica sono nella faccia nella testa gli occhi le orecchie il naso la maggioranza poi tutta la pelle con il senso del calore eccetera eccetera però qua sono la maggior parte vediamo che queste forze plasmatrici in un certo senso si muovono verso il basso quindi dalla testa fino ai piedi sono immagini di Dio recita una preghiera per bambini meravigliosa però nello stesso tempo in cui si muovono e si liberano dalla parte prettamente fisico organica chiaro non del tutto perché un corpo fisico per poter essere vivo deve essere compenetrato da forze vitali però la differenza sostanziale è che se noi guardiamo una pianta queste forze vitali compenetrano esaurendosi nella componente organica non ci sono forze vitali libere nella pianta mentre invece queste forze vitali cominciano a liberarsi in parte e se si liberano vuol dire che si trasformano si metamorfosano in qualche metamorfosano l'ho detto in spagnolo si si metamorfosano è giusto in qualcos'altro o meglio si sublimano un po' come nei processi fisici scusate l'esempio burdo l'esempio terra terra un'altra volta però è importante a volte l'esempio terra terra per dei concetti così complicati chissà può aiutare gli stati della materia come l'acqua evapora e si fa vapore e da vapore poi può esserci uno stato ancora più rarefatto in questa leggerezza della materia che può prendere attraverso gli stati possiamo immaginare un parallelismo con quelle che è la sublimazione delle forze vitali una parte delle forze vitali starà sempre unito costantemente dalla nascita fino alla morte con l'organizzazione fisica e questo ne farà una unità ma una parte si libera e liberandosi già non serve al fisico quindi si può proiettare a servire qualcosa di superiore superiore anche a se stessa a un elemento animico e per questo Rudolf Steiner dice che le facoltà intellettuali che acquisisce poco a poco il bambino sono forze vitali trasformate di questo si occupa di questo è si tratta quindi nei primi e questa è una cosa che possiamo vedere nei primi tre anni le forze vitali sono in particolare nella testa e liberano questa parte al final di questi tre anni tre anni e mezzo noi vediamo un cambiamento nel bambino che è un cambiamento che si vede attraverso l'attività del gioco prima non era un gioco adesso comincia a essere un gioco e il gioco si fa sempre più complicato col passare degli anni tre quattro cinque anni il gioco è cambiato sono tre anni e il gioco è cambiato drasticamente dal trasformare l'oggetto che io ho davanti e farlo diventare quello che io voglio si sta manifestando una facoltà nuova che è la fantasia e che cos'è la fantasia se non questa forza vitale trasformata sublimata con qualità tutte della volontà così come nasce e si trasforma nasce e si trasforma la facoltà della memoria la memoria la apprezziamo realmente quando il bambino già ha formato il corpo vitale dopo la dentizione dopo il cambio dei denti e lo vediamo chi è maestro o chi è genitore lo sa perché non ti può scappare una parola si ricorda anche quello che non hai detto si ricorda a volte no una potenza incredibile però questo ricordo cioè questa facoltà della memoria incomincia e nasce a partire più o meno dai due anni e mezzo tre in coincidenza con la facoltà del pensare ma non è una coincidenza casuale è una coincidenza causale perché qui abbiamo la percezione dell'io come tipo di esperienza del bambino percepire percepire sempre qualcosa che mi separa mi sto separando dal mondo e questa prima separazione è una percezione dell'io il bambino comincia a dire io comincia a dire no comincia a dire perché eccetera eccetera e comincia anche a divertirsi con le parole perché vede che le parole sono fonte di potere no in un certo senso chiaro non è che ha la coscienza di questo però comincia a tenere questo sentore e vediamo che anche in questo momento nasce nel bambino questa rudimentale memoria che associa spazialmente le cose quindi la casa dei nonni è vicino a un pioppo tutte le volte che vede un pioppo prescindendo dal fatto che non siamo vicino ai nonni lui dirà nonni questa è la memoria spaziale il fatto di avere un punto di riferimento nello spazio localizzata fuori qui chiaramente non è precisa ma appunto è rudimentale questa è dei primi tre anni tre anni è qualcosa dopodiché cambia e abbiamo questa memoria ripetitiva quante volte mamma quella canzone mamma quel racconto fammi vedere questo raccontami questo ma l'abbiamo già ripetuto mille volte ma tu raccontamelo ancora in questa ripetizione abbiamo la memoria ritmica no? è la memoria per cui io imparo proprio per la ripetizione stessa della immagine che si ripete non solamente le parole è proprio l'immagine che si ripete si ripete si ripete quindi diventa duratura nell'anima e poi finalmente verso i cinque sei anni che poi chiaramente prende tutto il suo apertura con l'anno scolare con il fatto che diventa maturo per l'epoca scolare il bambino ha la memoria temporale cioè la memoria astratta che abbiamo noi la nostra memoria che acquista queste facoltà sono facoltà che sono trasformazioni proprio delle forze vitali delle forze formatrici e del fatto che queste forze formatrici non si esauriscono nell'organismo fisico allora una parte di queste forze trasformate già è e sta formando il corpo animico del bambino a questo tra i sette e i quattordici anni si unirà dall'esterno della corporeità organica si uniranno le forze di coscienza infatti il bambino diventa sempre più svegli a sei anni mia figlia sta dicendo come sei bella mamma sei bellissima a quasi dieci anni la mia figlia più grande mamma ma c'hai i baffi una coscienza che si sveglia per noi non è molto carino però in realtà sono elementi di coscienza questi sono meravigliosi da ascoltare perché prima non lo vedeva prima non era cosciente di questo adesso comincia ad essere cosciente di questo mondo esterno di queste imperfezioni meravigliose quindi in questo senso Monica abbiamo questi due elementi che si uniscono si armonizzano e che formano il corpo astrale del bambino il corpo astrale è un insieme di forze di coscienza che sono supportate da questa trasformazione delle forze amiche ro eccomi qua grazie mille aspetto che accendo anche là però sono un po' qua ok ciao a tutti grazie mille allora si parlava appunto di forze formatrici no? che proprio si parlavano che scolpiscono quindi può sembrare una domanda stupida anche la proprio la nostra corporeità quindi come siamo fatti anche come ci portiamo nella nostra insomma nella nostra vita la corporeità la statura il come sono fatte le mani insomma tutte queste cose qua parlano della nostra vita prima della nascita e quello che mi chiedo è come cioè come se fosse quasi un alfabeto metto il semino e vai tu che bella questa immagine dell'alfabeto grazie sì che possiamo dire possiamo vedere un'immagine ancora a me piace molto questa immagine per questo la porto come avete visto in questo primo incontro ci stiamo fermando nei primi 21 anni no? chiaramente ecco guardate in questa non cancello quello che c'è dietro perché lo manteniamo un po' possiamo dire che questi primi 21 anni di vita li possiamo rappresentare anche così come qualcosa che entra no? poco a poco so qua ci sono i 7 qua ci sono i 14 e qua i 21 poi dopo possiamo andare un po' più avanti e chissà vedere questo ecco altri 21 anni dove abbiamo 21 28 28 35 35 42 poi con un gesto un po' così saltiamo i 42 qua perché sono come dire due due anni molto particolari tra 21 e 42 e possiamo andare a vedere questo questo eccoci qua spero che si veda non sembra di sì e qua abbiamo dai 42 ai 49 come gli antroposofi sanno bene la tabellina del 7 bellissima 49 56 63 e poi in realtà si potrebbe andare chiaramente avanti se vogliamo andare avanti per esempio in questo schema possiamo riprendere il 63 e metterlo qua dentro insieme al 21 al 42 ed al 63 puoi entrare in questa linea dritta e fare 70 77 77 ok se vogliamo diciamo così perché fare questo perché noi qua abbiamo la nascita in questo caso la morte non c'è la vediamo solamente in quello più grande la morte non lo sappiamo esattamente quando ci sarà noi abbiamo la nascita abbiamo questo entrare nella corporeità quindi questa formazione del corpo fisico con tutte le caratteristiche di cui appunto andiamo cercando questa immagine che ci stava dando Ro poi nasce questo corpo eterico vitale abbiamo detto e se vogliamo vedere con questa nascita nasce anche qualcos'altro del bambino il bambino che prima manifesta una certa qualità di volontà può essere una volontà una volontà molto più delicata non ha niente a che fare con il temperamento il temperamento nasce con il corpo vitale quindi vediamo che noi arriviamo con una certa costituzione fisica poi nasce un certo temperamento e un po' solutistico in questi primi anni poi dopo poco poco vediamo che si equilibrano i quattro temperamenti e sono qualcosa che vediamo in noi in una forma più o meno armonica solamente quando siamo in campo patologico il temperamento è uno normalmente è armonizzato e quindi possiamo dire che sicuramente tre temperamenti si fanno piede e chissà uno rimane più timido nella nostra composizione nel nostro colore e vediamo allora che nasce anche questa possibilità del temperamento con la maturità sessuale c'è un altro cambio un'altra nascita in realtà anche prima che possiamo dire con il rubicone già con il rubicone comincia ad apparire non solamente un temperamento che è una colorazione un'atmosfera che ci regala il bambino ma si fa presente un certo carattere appare un carattere un po' più definito che si definisce sempre più sono questi elementi che stiamo in qualche modo ci stiamo dirigendo per poter fare la nostra vita e si può dire che dopo i 14 anni verso i 15 16 anni adesso chissà forse ognuno qui ha proprio i suoi tempi può essere 15 16 17 si forma finalmente finalmente nel senso come parte finale la personalità una certa personalità il ragazzo la ragazza verso i 16 cominciano ad avere una loro idea del mondo una loro concezione del mondo questa è la personalità no? 12 punti di vista e poi finalmente questa si chiude con la realizzazione dell'individualità che in realtà poi è tutto un lavoro biografico che vedremo anche nella seconda nella seconda incontro no? incomincieremo con questi 21 42 che mi dici Ro? con questa ti lancio la palla un'altra volta no no ti ringrazio assolutamente era la mia domanda era proprio cioè quel seme che noi mettiamo nel corpo fisico sin da subito in qualche modo lo portiamo cioè sono quelle caratteristiche che ci definiscono come ci come ci definisce il nostro carattere il nostro temperamento queste cose qua è proprio un di questa società si cerca sempre no? di cambiarsi o che non ci si accetta non solo a livello fisico anche a livello di comportamenti di di caratteri di temperamento quando in verità queste cose parlano proprio di noi probabilmente sono proprio quelle cose che ci aiutano non solo a capire chi eravamo chi siamo da dove veniamo ma anche proprio a che dobbiamo dobbiamo comunque che siamo qui per diventare comunque questa era la cosa però ti ringrazio assolutamente ma questo pensiero è molto importante no? chiaro questo non vuol dire che allora non dobbiamo cambiare assolutamente no è il fatto già di intendere che questa è necessità cioè questo è un pensiero che non facciamo chissà forse con serietà ma questo questi primi 21 anni sono i primi 21 anni di necessità per poter portare a termine quello che io mi sono prefissa devo avere queste qualità non altre se no sarei un'altra persona già accettare questo poi non vuol dire fissarsi no? questa è una chissà dopo ti lascio parlare Veronica non ti preoccupare una cosa importante diciamo di questi primi sette anni di vita che vi ho detto prima lo vedremo sarà un pensiero che chissà ripenseremo più avanti nella chissà secondo o nel terzo incontro più facilmente il bambino arriva e vive abbandonato nel karma no? i genitori sono quelli la famiglia è quella il popolo è quello la razza è quella la situazione geografica è quella no? questa è una necessità non è che il bambino può prendere e cambiare questo è impossibile questo però non vuol dire non giustifica i genitori che come ho detto sono in un'altra fase biografica quindi non è che ah beh ma questo è il karma del bambino io non posso fare niente no io posso fare moltissimo conoscendo posso garantirgli un ambiente fisico adeguato che è la regola educativa d'oro del primo settennio fornirgli garantirgli un ambiente fisico adeguato che significa anche che comprende anche tutto l'aspetto animico di autoeducazione diciamo diciamo qua il bambino è così e l'adulto invece non può dire ma io sono fatto così lì vedremo che c'è un cambio lo vedremo soprattutto nel secondo incontro tra i 21 e i 42 vedremo che c'è questo elemento fondamentale no della possibilità in che senso tra l'accettare e il cambiare che sono diciamo i punti fondamentali Veronica allora ciao a tutti io diciamo ho avuto un po' una pausa questo è stato un rientro e con tutte queste cose un po' insomma che avevo capito adesso le sto rispolverando e alcune diciamo chiaramente mi risultano ancora ostiche mentre forse sembravo che le avevo capite in passato allora niente la mia domanda si ricollega sempre alla domanda della ragazza precedente praticamente tu hai sottolineato prima in questa frase di Steiner che praticamente il nostro fisico cioè nel nostro corpo diciamo è un po' come ha detto lei l'alfabeto di quello che era che è successo prima della nascita della nostra preparazione ecco la mia domanda è doppia innanzitutto io pensavo che insomma il mio corpo fisico e tutti i miei tratti fossero la prima cosa ereditare e quindi ereditari proprio dalla mia dalla mia famiglia poi che tra virgolette cioè che come non so se mi spiego cerco di spiegarmi nei termini nei tratti ereditari che compenetrano però che ho capito sono due cose diverse cioè una cosa è la preparazione alla nascita una cosa poi i tratti ereditari che a un certo punto entrano a partire da sette anni forse nella componente del bambino e due mi chiedevo anche come molte cose penso che dipendano anche poi dall'ambiente sociale dal vissuto insomma che un po' ci aspetta quindi come queste due cose poi io pensavo che insomma il risultato di tante cose fossero per me il risultato di queste due componenti il tratto ereditario e il tratto fondamentalmente dell'ambiente e delle circostanze che uno si trova a vivere non invece della preparazione precedente ecco questo vorrei se potesti se tu potesti insomma spiegare meglio questa cosa ecco grazie grazie Veronica qui abbiamo a che fare con in realtà possiamo vederla da due punti di vista diversi in realtà molti punti di vista diversi però uno è questo che dici tu l'ereditarietà e l'ambiente è che la idea dell'ereditarietà a volte si riduce unicamente a un fattore genetico che è l'espressione fisica dell'ereditarietà ma l'ereditarietà se noi dovessimo chiederci dove nasce ciò che si eredita ciò che si eredita nasce laddove c'è qualcosa di vivo di vivente la pietra la pietra non eredita nulla il cristallo non eredita nulla in realtà non crea qualcosa che può modificarsi da questo punto di vista la legge di ereditarietà nasce nel vitale Francesco Redi nel 1500 quasi rischia il rogo dichiarando che il vivente nasce solo dal vivente sembra una dichiarazione per noi banalissima ma ai tempi non era così perché si pensava che dall'inanimato si potesse nascere potesse nascere l'animato quindi collocare già il fatto che il principio di ereditarietà è un principio e una caratteristica del mondo vitale è già qualcosa di straordinario il fisico sempre sempre manifesta il fisico sempre riflette è come se fosse una grande un grande specchio riflettente come si manifesta fisicamente l'ereditarietà è grazie a tutta la componente fantasticamente sviluppata dalla medicina tradizionale come genetica meravigliosa un campo veramente entusiasmante caro il problema è quando noi vogliamo unilateralizzare il pensiero e quindi guardare tutto da un solo punto di vista e quindi spiegare che geneticamente tutto viene dai geni questo è un errore perché lì appunto c'è quest'altra componente guarda che la psicologia e la pedagogia da questo punto si sono occupate tantissimo su questi due elementi quello che è genetico e quello che è ambientale e se muovendosi così in questo modo in un certo senso hanno occultato il terzo elemento l'individuale allora noi possiamo immaginare che la corrente ereditaria in realtà è molto più ampia dello che è la parte genetica e che in realtà noi ereditiamo come diceva anche una frase di Goethe che è adesso parafraso perché non me la ricordo a memoria non solo i tratti fisici ma anche dei tratti temperamentali e caratteriali infatti difficilmente in una famiglia di collerici nasce un malinconico a meno che non ci sia una forte tendenza anche alla malinconia no di solito ci sono delle coloriture grazie proprio all'ambiente eterico familiare che vengono ereditate e vengono ereditate perché scelte da chi dall'individuo quindi il discorso anche delle non è che mi capita mi capita il naso così mi capita il carattere in questo modo mi capita essere nata in Italia no mia figlia alla seconda è nata in Perù è una scelta una scelta anche molto costretta e vincolata perché io sarei tornata anche in Italia ma in un certo senso mi è stato chiaro che era una sua scelta poi vedremo anche perché che cosa guardando la sua vita quindi diciamo possiamo vedere questa forte corrente ereditaria che non solo mantiene in sé manifestazioni fisiche ereditate ma anche tutte le caratterizzazioni vitali che si possono in qualche modo ereditare e anche queste sfumature animiche che si possono ereditare animiche come corpo animico soprattutto l'anima vediamo che viene da sé no è l'espirito compenetrato dell'anima che prende contatto adesso lo possiamo fare chissà con questo elemento che è corporale totalmente corporale noi vediamo è un'altra triada un'altra triade è determinata dal corpo scusa Consuelo mi puoi chiarire bene questa cosa spirito compenetrato nell'anima che cosa intende antropostroficamente certo per quello che posso e per quello che concede l'ora lo spirito è l'individualità è lo spirito eterno che si incarna continuamente in vite terrestri chiaro non non eternamente no non sono eterni i cicli di vita iniziano e se sono iniziati devono finire una regola basica quindi diciamo lo spirito è questa individualità eterna che si si incarna e fa varie esperienze incarnandosi no però vedremo che in realtà noi dobbiamo osservare la biografia umana a partire da questo spirito e questo spirito è chiaro non può essere esente da questo elemento da questa atmosfera animica è importante l'alma che cos'è l'anima è una congiunzione fondamentale tra quello che è spirito e quello che è corpo è quello che mette in relazione è il luogo del conoscere se io voglio sapere come conosce l'uomo dove conosce l'uomo devo trovare questo luogo nell'anima chi conosce è l'io dell'uomo chi conosce in questo luogo dell'anima ora l'anima può essere orientata verso i sensi e quindi dai sensi conoscere il mondo fisico esteriore oppure l'anima può essere orientata verso lo spirito ci vogliono altri organi per poter percepire quello che è il mondo spirituale che adesso di questo non ci occupiamo ok se volete saperne di più iniziazione no nessun testo come si acquisiscono le conoscenze dei mondi sopra sensibili però il punto fondamentale in questo senso è che l'anima è proprio può essere visto come questo luogo che viene illuminato dalla luce di questa di questo io è un esempio che io faccio spesso perché funziona almeno come immagine rende più chiare le cose chiaro noi adesso stiamo parlando di qualcosa che è questo spirito in volto di anima che deve trovare come dire una connessione un'armonia con quello che è il corporale con quello che è un modello con quello che è fornito dall'ereditarietà questo sostanzialmente è come un come si dice un un molde un come lo possiamo definire è qualcosa che deve essere costantemente plasmato per essere adattato all'elemento spirituale animico tutto questo tutto questo principio di adattamento è l'incarnazione è il fatto che il bambino lavora sopra questo sopra questo tipo di armonia e l'educazione farà questo lavoro soprattutto a partire dal secondo settennio ok anche anche l'educatore anche il maestro fa questo lavoro cioè diciamo che aiuta dovrebbe aiutare a questa armonia lasciamo stare però facciamo facciamo che dovrebbe essere così allora questo processo di adattamento è un processo di plasmare costantemente in modo da adattare questo elemento corporale in questa vita a questo principio spirituale il bambino in questo caso è un essere straordinario perché è uno spirito che lavora direttamente sulla materia è incredibile quello che si fa come bambini poi il fatto di pulire l'idea di spirito di anima e di corpo ha bisogno di un lavoro sull'immagine dell'essere umano che posso proporre più avanti sicuramente però che ha bisogno proprio di dedicare uno spazio un tempo sopra questo no no ma se è stata chiarissima se è stata chiarissima grazie grazie a te Gaia almeno eccomi ciao salve a tutti allora in realtà hai un po' risposto a una delle domande attraverso gli ultimi interventi praticamente in realtà l'ereditarietà no quindi è parte del nostro karma alla fine nel senso ce la scegliamo noi anche l'ereditarietà no perché quando dice che il bambino sceglie i propri genitori e l'ambiente in cui in cui quindi si potrà attivare quindi tutti i fratelli e tutto quanto quindi le situazioni che è una cosa che la prima volta che una mamma la sente si riempie in storia no però in realtà è una scelta che comprende sia aspetti positivi che aspetti negativi evidentemente quando scendiamo una certa situazione per Gaia puoi avvicinarsi perché si sente un po' male il computer che è becco diciamo nelle nostre scelte prenatali che poi fanno ovviamente parte del nostro karma è vero che scegliamo degli aspetti sicuramente positivi edificanti però ne scegliamo anche alcuni che determinano poi quello che noi dovremmo fare quindi pensare sì è vero noi capiamo nei primi 21 anni speriamo che capiamo io non avevo capito niente però capiamo un po' no quello che noi siamo nati in una determinata condizione in determinati ambienti caratteristiche per un motivo però questo va superato chiaramente come ho detto tu nel senso non sono solo nostre caratteristiche sono in realtà ci indicano proprio quello che dobbiamo superare credo che il nostro karma sia pieno di cose da superare che di cose che ci caratterizzano positivamente penso che un po' avevi già risposto poi ti volevo chiedere un'altra cosa sull'anima allora l'anima quando noi lasciamo questa vita terrena lasciamo l'anima è l'anima che parte del fatto di essere in contatto con il corpo fisico da quello che ho avvito e quindi quando noi poi rientriamo diciamo in un'altra esistenza terrena abbiamo un'anima diversa cambiamo cambiamo proprio completamente anche contatto col nuovo corpo fisico allora guarda o non si sa ti dico già che questo chissà troverà un po' non dico una risposta perché sarebbe veramente però troverà qualcosa diciamo per poter chiarirlo nel terzo incontro quindi in questo senso ti direi tienilo lì nel cuore questa domanda perché sicuramente è bene ma c'è un motivo per la quale tu sei qua adesso chissà qualcosa deve essere in qualche in qualche modo dato reciprocamente allora sull'anima io ti faccio un'altra domanda però non è per rispondere no è per tenerla lì è molto provocante e allora cambiamo tutte le volte l'anima cambiamo tutte le volte il corpo fisico cambiamo tutte le volte il corpo vitale o qualcosa o qualcosa qualcosa di essenziale si mantiene e che è il nostro che è il frutto di un lavoro lasciamola lì ok del fisico del vitale dell'astrale ok lasciamolo lì per un momento di spirito a parte ti resta questa cosa di vediamo vediamo che cosa succede e l'altra e l'altra invece la prima parte bene noi abbiamo questa visione perché siamo abituati anche ad andare come ci spostiamo sulla terra ci spostiamo da un punto all'altro sempre con la solita faccia non è che ci muoviamo come i granchi oppure ci muoviamo all'indietro noi ci muoviamo sempre in questa direzione guardando in là questa è una cosa che in realtà limita moltissimo adesso non è che ci dobbiamo muovere in altri modi però chissà a volte fare questa esperienza può essere interessante anche il modo di guardare le cose le guardiamo da un punto verso il futuro e quindi io sono fatto così ho questo tipo di fisicità famiglia persone che mi circondano nell'infanzia e guardo verso il futuro invece qua c'è da fare un esercizio anche verso l'altra parte la parte che di solito rimane oscura la parte alla quale di solito non guardiamo e anche questa cosa dirotta un po' con il fatto che si parla molto di che cosa c'è dopo la morte è un pensiero molto ricorrente soprattutto a partire dall'ottocento in avanti chiedersi immortalità dopo la morte cosa c'è non c'è niente no Bertrand Russell in maniera molto drastica io sono polvere polvere ritorno una volta morto non esisto più e ciao sono tanti punti di vista però quanti punti di vista avete ascoltato della innatalità di questo passaggio prima della nascita quindi in questo senso hai che poco a poco educarsi c'è un esercizio c'è c'è un esercizio molto interessante si fa anche per altri motivi però chissà anche non è non è unilaterale la cosa che è l'esercizio di guardare le cose a ritroso guardare per esempio una vita una giornata una vita no una giornata a ritroso e vedere un poco come come cambiano le cose non è un esame di coscienza è semplicemente l'osservarsi da questo momento al momento in cui io mi sono svegliata stamattina per esempio e cambiano certe dinamiche cambiano certe relazioni cambia lo sguardo in un certo modo soprattutto facendolo con una certa costanza questo mi viene da dire ma appunto continueremo nella secondo incontro e nel terzo approfondire e andare avanti per vedere effettivamente quando cominciamo a guardare una biografia quando è necessario come dire iniziare a una biografia come si muove diciamo nel tempo e nello spazio e vedremo che le cose non vanno solo da una direzione grazie grazie a te Gaia Valeria sì buonasera ho seguito con molto interesse e volevo capire una cosa mi raggancio è molto simile alla domanda di Gaia in realtà la mia curiosità la mia domanda tu hai parlato di questo elemento spirituale animico che man mano incontra l'ereditarietà e si incarna man mano completando più o meno questo processo nell'individualità al ventunesimo anno ora Steiner parla un po' di quello che ha detto Gaia cioè nel momento in cui l'elemento animico spirituale si trova ancora nel Deva Chan progetta in un certo senso la vita futura in relazione all'eredità karmica quindi all'estratto delle vite precedenti mi pare che lui si esprima così e anche per esempio in altre tradizioni il bardo todol cioè molto preciso nel descrivere la scelta che l'anima opera prima di incarnare addirittura l'anima insomma sarebbe lì a scegliere i genitori più idonei a esprimere insomma il proprio vissuto karmico quindi ecco in realtà non ho colto molto da quello che ha detto è molto interessante questo discorso del processo a ritroso però non ho colto molto il collegamento cioè come se fossero scollegate l'ereditarietà e l'elemento animico e spirituale invece quelle tradizioni antiche che hanno guardato cioè tipo non so mi viene in mente la tibetana ma l'ha fatto Platone in occidente al percorso a ritroso questo collegamento l'hanno sempre individuato cioè l'ereditarietà non è casuale non è casuale se una certa anima si incarna in una certa famiglia in un certo popolo e ha quindi un karma non solo individuale ma anche collettivo anche ereditario cioè mi sembra che esista un collegamento non so se ho capito male o comunque insomma ci sia una spiegazione diversa no no è perfettamente corretto in nessun caso e sto parlando della necessità che sto cercando di evidenziare qua come qualcosa di casuale in nessun caso e il fatto che è esattamente questo quello che sta cercando l'individualità è uno di queste dimostrazioni si collega a quello che tu stai dicendo per comprenderlo dobbiamo proprio fare questo esercizio costante di muoverci nello spazio e nel tempo in una forma diversa e questo lo faremo nel secondo e nel terzo soprattutto nel terzo incontro però il primo necessariamente dovevo fare come dire un tragitto molto lineare molto terrestre in un certo senso per vedere per capire che è il movimento anche che noi facciamo mentre quando ci stiamo muovendo da questo punto in avanti nella biografia quindi dai 21 anni in avanti allora lì veramente dobbiamo cominciare ad avere una plasticità anche il fatto di questo disegno che io vi ho fatto uno schema molto semplice in realtà c'è già senza che io lo dica una relazione tra settenni che però può sorgere guardate bene non può sorgere qui in un certo senso perché qui il bambino ancora è in una in una ricerca di indipendenza è ancora molto lontano diciamo in questo secondo settennio in realtà è dai 21 in avanti che io posso cominciare a guardare indietro a muovermi nel tempo indietro cominciare a trovare soluzioni o chissà nodi che vengono da altri settenni quindi diciamo che dal secondo incontro vedremo che la nostra forma di muoverci linearmente in forma dritta deve cambiare dobbiamo cominciare a renderci più plastici nel movimento della biografia e soprattutto nel terzo vedremo che questo è assolutamente insufficiente se vogliamo realmente renderci conto delle cause e dobbiamo renderci conto che in realtà la biografia è la vita dell'individualità tra la nascita e la morte e la morte e la nuova nascita grazie grazie a te Valerie allora io so che è molto tardi in Italia perché qua sono quasi le quattro del pomeriggio ma per voi per voi è più tardi allora io penso che come primo come primo incontro qualcosa è stato messo come base già vedete che in realtà non lavoreremo delle tecniche biografiche particolari non era quella la mia intenzione ma piuttosto cercare proprio di cogliere questo questi elementi di passaggio che sono fondamentali per comprendere un po' di più questo elemento della biografia umana e soprattutto sollevarci dalla semplice osservazione della biografia della personalità la personalità è l'unica cosa che nasce e muore quindi Consuelo è nata quando muore ciao Consuelo invece è molto più importante cominciare a fare dei pensieri con una certa serietà su quella che è la reale biografia dell'io che in verità ci può aiutare anche nella vita da questo momento in avanti che sa e bene qualsiasi domanda che possa sorgere mi farebbe molto piacere riceverla per correo per mail scusate per me per correo o anche insomma con altri mezzi in modo che chissà queste domande possano aiutare a creare il secondo e il terzo incontro darò sempre uno spazio all'inizio dell'incontro un po' per sentire se in questa settimana di tempo sono sorte delle domande comunque sì è una conversazione quindi è molto importante anche avere questo elemento dell'ascolto per me vedo che c'è qualcosa in chat ok no sì dobbiamo andare assolutamente io chiedo scusa vado perché c'è un'anima che è arrivata sabato mattina alle quattro e mezza qui a casa nostra sì sì e quindi anzi mi sento anche in colpa in queste due ore va bene io ti ringrazio ringrazio sì ringrazio tutti e alla prossima scusa mi vado velocissimo grazie va bene ciao Ettore grazie ciao che bello è nato bene bene io direi che sì ci possiamo già salutare e vi manderò per mail un link di una di una playlist che rimarrà privata per adesso finché non abbiamo finito i tre incontri poi vedrò se metterla pubblica o no in modo che possiate rivedere certe cose se volete eccetera eccetera bene ci vediamo il prossimo martedì grazie ciao buonanotte ciao buonanotte ciao 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 grazie ciao ciao ciao